Oggi mi trovo a Gabbioneta, Vina Nuova, siamo in provincia di Cremona all'interno della New System Painting. Alessandro De Carli, giovane imprenditore, 33 anni, già da pericchi anni ai vertici di questa azienda. Come essere un giovane imprenditore oggi? Allora, essere giovane imprenditore oggi è una sfida quotidiana perché la richiesta del mercato diventa sempre più complessa perché diventa sempre più esigente e quindi è un continuo reinventarsi per stare al passo. Tu hai parlato di reinventarsi, tra l'altro in questa azienda c'è proprio la dimostrazione che in momenti di crisi, quella ad esempio avvenuta nel 2010, quando dal casco avete allargato la vostra produzione, bisogna proprio reinventarsi e cercare nuovi mercati. Esatto, sì, perché appunto lì il mercato si era spostato tutto in Asia e quindi noi siamo andati a cercare quei settori appunto che restavano made in Italy e appunto che volevamo affrontare perché c'era tanta richiesta. 33 anni, tu, tua sorella 38, tuo fratello 28, quindi tre giovani imprenditori al vertice di questa azienda, 60 famiglie. Esatto. Sentite questa responsabilità? Sì, si sente questa responsabilità ma però ti appaga, ti dà anche forza, forza di migliorarti e crescere sempre di più e diciamo che è la benzina che fa andare questa macchina. Poi la responsabilità appunto di, avendo 60 dipendenti, avendo 60 famiglie, di dover comunque gestire nel modo corretto un'attività come questa. Esatto, sì, sì, sì. Infatti io faccio la parte produttiva quindi devo sempre organizzarla per renderla più efficiente possibile e comunque è sempre una soddisfazione per tutti ovviamente, per tutta la famiglia. Grazie.